Grazie a tutti. Le piccole cose che governano il mondo, il caso degli scarabèi stercolari. Prego, Mattia. Buonasera a tutti. Concludiamo con un tema particolare. Bene, quando mi venne chiesto di preparare un intervento per il Darwin Day con tema le estinzioni, la prima cosa che mi è venuta in mente è quest'articolo di Edward Wilson del 1987. Avevo solo due anni, l'ho letto successivamente. Quelle piccole cose che governano il mondo. In quest'articolo il grande birmecologo americano rifletteva sull'importanza degli invertebrati e più precisamente, più nello specifico, degli insetti nei numerosissimi processi ecologici, molti dei quali molto importanti anche per la nostra specie. E soprattutto ci metteva in guardia sui rischi legati alla loro estinzione. Cosa è cambiato a oltre 30 anni da questa pubblicazione? La prima riflessione che farei riguarda alcuni numeri, alcune misure del mondo naturale che ci circonda. Quanto misura il raggio della Terra? 6371 chilometri. Quanto misura la massa di un elettrone? 9,1 per 10 alla meno 31 chilogrammi. Quante stelle ci sono nella Via Lattea? 300 miliardi. Quante specie esistono sulla Terra? Non ne abbiamo idea, neanche l'ordine di grandezza, con stime che vanno dai 3 agli oltre 100 milioni di specie. Naturalmente questa mancanza, questa ignoranza nei confronti dell'inventario della vita sulla Terra ci mette in una posizione di svantaggio perché si presume che per adottare delle pratiche contro l'estinzione dobbiamo almeno sapere cosa andiamo a conservare, al minimo il suo nome. Ma partiamo dal conosciuto. Ad oggi sono state descritte oltre 1.700.000 specie di esseri viventi delle quali oltre il 70% sono invertebrati. Più del 50% delle specie viventi sono insetti e circa il 20% delle specie viventi sono coleotteri. Quindi una specie su due è un insetto e una specie su cinque è un coleottero. Per dirle con le parole del biologo evoluzionista Eldain Dio, se esiste, ha una smodata passione per i coleotteri. Quindi sembrerebbe che il mondo appartenga agli insetti, a questi piccoli esseri. E se questo non bastasse, di tutta la biomassa animale presente sulla Terra gli artropodi rappresentano il 50% del totale, mentre gli esseri umani arrivano a malapena al 3% della biomassa totale. Pensate che le sole termiti posseggono una biomassa paragonabile a quella di tutta la specie umana. Tuttavia, questa abbondanza e varietà di vita è oggi a fortissimo rischio di estinzione. Ci sono delle stime che ci dicono che il tasso di estinzione degli insetti sia circa 8 volte maggiore rispetto a quella dei vertebrati. Quindi, secondo queste stime, noi stiamo perdendo negli ultimi anni qualcosa come una specie ogni d'insetto, ogni 5 giorni. Stime cautelative, basate soprattutto su quelle che vengono definite le estinzioni sentinela, ossia le estinzioni di specie non ancora descritte. Il nome sentinela deriva da una cordigliera dell'Equador, sentinela del Condor, dove negli anni 70 dei botanici descrissero qualcosa come 90 specie endemiche. Dopo 15 anni rasero tutto il suolo per fare spazio alle piantagioni di cacao e quelle specie sono estinte. Situazioni del genere si verificano numerose volte. Quindi è estremamente probabile che molte specie di insetti si estinguano ancora prima di essere descritte. e sono cautelative perché, se ad esempio andassimo a considerare soltanto quelle che sono le coestinzioni di insetti, ossia estinzioni di insetti che hanno un rapporto specie specifico con altri esseri viventi, le stime aumenterebbero a un livello vertiginoso. C'è qualcuno che dice addirittura che stiamo perdendo qualcosa come 8 specie di insetti al giorno. Se non ci fidiamo delle stime e a volte ha ragione perché il più delle volte sono delle estrapolazioni anche brutali delle poche informazioni che abbiamo, vi riporto un dato empirico, un dato reale. In questo studio pubblicato l'anno scorso hanno visto che in Germania negli ultimi 9 anni in un'area piuttosto ampia sono stati persi qualcosa come il 67% della biomassa, il 78% dell'abbondanza e il 34% della ricchezza specifica di insetti. Un dato direi allarmante dato anche il brevissimo lasso temporale di cui stiamo parlando. Ma sapete quante specie di insetti si sono estinte fino ad oggi, documentate? 62. Noi ad oggi abbiamo documentazione che soltanto 62 specie di insetti si sono estinte e questo non perché gli insetti in realtà non si stanno estinguendo ma perché non stiamo osservando il problema con la giusta risoluzione. E questo per quale motivo? Perché nonostante la loro incommensurabilità e ubiquità gli insetti non riscuotono la stessa simpatia rispetto ai grandi vertebrati tant'è che solo l'8% della letteratura scientifica in ambito conservazionistico riguarda specie di insetti i vertebrati rappresentano circa il 70%. Meno dell'1%, molto meno dell'1% degli insetti sono stati valutati dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e tutto questo si ripercuote anche su quelli che sono i fondi a disposizione di progetti per la conservazione di insetti che rappresentano solo l'8% del totale questi sono fondi di progetti LIFE di cui oltre la metà vanno nei confronti di specie di farfalle questo dato ci indica che 417 euro è la somma che viene data mediamente per ogni specie di artropodo nei progetti di conservazione praticamente nulla per quale motivo avviene tutto questo? secondo me sono tre i motivi principali da un lato si è sempre pensato che la conservazione dei grandi vertebrati si portasse dietro quasi per inerzia la conservazione anche degli invertebrati il concetto delle cosiddette specie ombrello tuttavia si stanno pubblicando si continuano a pubblicare numerose evidenze che mettono in crisi un po' questa regola che fino ad oggi veniva considerata universale una sorta di dogma della biologia e della conservazione in uno studio fatto in Australia pubblicato l'anno scorso un paio di anni fa si è visto che la conservazione dei grandi vertebrati si portava dietro la conservazione degli insetti soltanto nel 28% dei casi veramente poco un altro fattore è la mancanza di informazioni nei confronti degli insetti in molti casi come dicevo molte specie di insetti non hanno ancora un nome le specie che sono state descritte in molti casi non conosciamo né la loro ecologia né la loro biologia né la loro distribuzione a me una volta è capitato mi sono passati sotto mano degli scarabèi coprofagi una nuova specie descritta poco tempo prima che nell'etichetta riportavano Messico basta tutto quello che sappiamo abbiamo il nome e sappiamo che sta in Messico niente di più altro fattore non meno importante si è parlato tanto anche dell'importanza del pubblico nei processi di conservazione è il fatto che molti insetti sono poco carismatici benché meno dell'1% delle specie di insetti in realtà possono essere considerate piaghe o determinano dei problemi di tipo sanitario in questo studio che hanno fatto in Francia ci hanno sottomesso un questionario a migliaia di studenti di diversi di diversità dove gli è stato chiesto di riportare il primo animale che gli venisse in mente per diverse tipologie di ambiente gli insetti sono stati citati solo il 12% delle volte e queste sono le parole maggiormente correlate con la parola insetto brutti disgustosi puntura invasione parassiti pericolosi sembra che quasi siano l'archetipo della negatività per l'essere umano bene come pensate che se la passino gli insetti stercorari che oltre ad essere insetti i coprofagi stercorari oltre ad essere insetti vivono negli escrementi per usare per farfrasare la battuta di un famoso comico le persone sono tolleranti nei confronti degli insetti e degli escrementi tranne quando le due cose si presentano contemporaneamente e come vedremo non se la passano poi così bene ma concedetemi un attimo di presentarvi questo gruppo di insetti per me così affascinante e che esiste da circa da almeno 140 milioni di anni e vivono si alimentano e si riproducono utilizzando gli escrementi come risorsa principale e lo fanno nei modi più disparati beh la tipica specie che arriva sull'escremento crea la sua pallina e la fa rotolare via prima di interrarla e usufruirne come alimento o come risorsa per le proprie larve vi sono i cosiddetti trivellatori ossia specie che arrivano scavano dei cunicoli al di sotto della fatta anche di un metro di profondità dalle architetture più varie tunnel che poi riempiranno con l'escremento sempre per il loro utilizzo o come riserva per le proprie larve vi sono specie parassite ossia che utilizzano il lavoro di altre specie invadono il nido di altre specie vi sono poi delle specie incredibili che per evitare la competizione e di spendere tempo ed energia nella ricerca dell'escremento si attaccano direttamente al pelame di scimmie bradipi wallabi canguri e cosa fanno? aspettano che defechino si lasciano cadere e si ritrovano la risorsa immediatamente pronta lì bene un tempo queste bestiole affascinavano l'essere umano tanto che gli antichi egizi avevano una divinità lo scarabeo sacro era una divinità per gli antichi egizi ora pensate alla situazione per un popolo così dedito al culto del sole lo scarabeo sacro è una specie estremamente attiva nelle prime ore del mattino momento in cui arriva sull'escremento crea la sua pallina e la fa rotolare via proprio mentre il sole inizia a sorgere per un popolo così dedito al culto del sole il nesso causale doveva essere palese gli scarabei attraverso la loro opera di rotolamento erano la causa del sorgere del sole purtroppo queste bestiole sono passate dall'essere considerate delle divinità a non essere considerate affatto tant'è che ad oggi il 12,5% delle specie nel bacino del Mediterraneo sono a rischio di estinzioni a rischio di estinzioni se vi sembrano poche vi posso dire che il 40% di scarabei coprofagi del bacino del Mediterraneo sono stati definiti dalla UCN data deficient ossia non sappiamo non abbiamo abbastanza dati per dire come se la passano questo non vuol dire che non sono a rischio di estinzione vuol dire che non lo sappiamo potrebbero anche addirittura star peggio rispetto alle specie che sono state valutate comunque ad oggi le maggiori minacce per gli scarabei coprofagi sono di due tipi e stranamente antinomiche fra loro ossia l'assenza delle attività umane e la presenza eccessiva ossia l'abbandono dei pascoli e l'abuso degli antiparassitari sul sul pascolo l'abbandono dei pascoli è un problema enorme oggigiorno molti allevamenti se ne vanno dalle zone marginali sub montane e montane perché la fatica è tanta e la produttività è molto poca negli ultimi circa 30 anni sono stati persi qualcosa come il 28% di capi di bestiame in Italia soprattutto nelle aree marginali e questo è un grosso problema per gli scarabei perché diminuisce la risorsa atrofica disponibile sul pascolo non riescono a mantenersi delle popolazioni vitali utilizzando soltanto gli escrementi della fauna selvatica in questo studio in questi studi che ho fatto nelle aree sub montane della provincia di Urbino quindi nell'appennino marchigiano si è visto come l'abbandono abbia determinato una perdita del 22% delle specie del 78% della biomassa totale e l'impatto è maggiore soprattutto nelle specie di grandi dimensioni cosa non da poco come vedremo come vedremo poco se a questo aggiungiamo che la maggior parte degli escrementi che rimangono sul pascolo in molti casi sono contaminati da sostanze antiparassitarie il problema diventa grosso anche perché questi antiparassitari nel momento in cui vengono somministrati al bestiame non vengono metabolizzati e passano inalterati mantenendo il loro potenziale tossico attraverso il tratto digestivo e quindi eliminate attraverso le feci gli scarabei che si vanno a alimentare di escrementi moriranno e quando non muoiono subiscono tutti quelli che vengono chiamati effetti subletali quindi qui purtroppo il video non si vede ma questa è una specie di scarabeo scarabeo cicatricosus al quale che è stato alimentato con delle dosi bassissime di antiparassitari 100 volte minori rispetto a quelle che si trovano sui escrementi tipici dei pascoli dopo una settimana è un morto vivente è uno zombie potete ritrovarlo sul pascolo ma è ecologicamente morto nelle stesse aree di cui prima si è visto che l'abuso di antiparassitari ha portato a una perdita del 32% di specie del 65% della biomassa e un impatto maggiore anche in questo caso sulle specie di grandi dimensioni per quale motivo calzo sul discorso delle specie di grandi dimensioni perché sono quelle che hanno una capacità di riciclare gli escrementi molto maggiore rispetto alle altre e di fatti in quelle aree si è visto che abbiamo una perdita fino al 70% della capacità di degradare gli escrementi delle popolazioni naturalmente questo si ripercuote anche su tutti quegli altri processi ecologici che sono connessi al riciclo dell'escremento noi perdiamo la capacità di dispersione secondaria dei semi perdiamo la capacità di sopprimere i parsiti del bestiame che ritroviamo all'interno degli escrementi diminuiamo il tasso di crescita della vegetazione non abbiamo un miglioramento delle proprietà chimico-fisiche del suolo di cui sono a causa gli scarabei e per ultimo ma non per importanza visto che se ne è parlato molto abbiamo un aumento delle emissioni quindi di gas effetto serra perché gli scarabei attraverso la loro opera di rimescolamento dell'escremento generano una reazione e quindi eliminano la possibilità di emissioni soprattutto di metano dagli escrementi queste problematiche le conoscono molto molto bene in Australia dove a fine settecento l'uomo europeo portò i grandi bovidi cosa che non c'era mai stata in Australia e le oltre 600 specie di scarabecoprofagi endemiche dell'Australia non riuscivano a riciclare tutti quegli escrementi perché erano preadattati ad utilizzare gli escrementi estremamente secchi dei marsupiali hanno cominciato a un certo punto a perdere qualcosa come 200.000 ettari di pascolo all'anno erano sommersi dagli escrementi la situazione migliorò soltanto con un progetto enorme in cui vennero portati in Australia milioni e milioni di individui di circa 50 specie di scarabei provenienti da altre zone biogeografiche e che avessero la capacità di interrare tutto quell'escremento in eccesso bene e vado verso la conclusione come possiamo risolvere e approcciarci a queste problematiche senza entrare in tecnicismi direi che basterebbe fare un piccolo passo indietro un piccolo ritorno al futuro ripensare all'accoppiamento fra agricoltura e allevamento perché se ci pensiamo un ambiente agricolo benché estremamente modificato rimane un ambiente naturale e non potrà mai mantenersi in maniera sostenibile in assenza di animali tornare a quel periodo in cui possedere del bestiame era uno status symbol e questo lo ritroviamo anche in molte lingue del mondo pecus denaro pecus bestiame pecunia denaro lo stesso vale anche in spagnolo ganar che vuol dire guadagnare viene da ganado bestiame ritornare a gestire in maniera dolce i nostri territori come si faceva fino a qualche tempo fa e che ha portato alla costruzione di quei paesaggi culturali di cui tutti noi oggi godiamo bene non credo di esagerare se dico che il destino ultimo degli scarabei dei nostri paesaggi e dell'essere umano infine passi anche dall'adottare queste pratiche e a proposito di destino ultimo la parola escatologia definisce la dottrina sul destino ultimo dell'uomo la parola escatologia definisce lo studio degli escrementi questa non è mia ma è del grande Dario Fo una è che separa l'anima dagli escrementi e questo credo che sia abbastanza per dire che la conservazione degli scarabei sia cosa importante grazie 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 a Mattia Tonelli avete visto insomma tutte le relazioni davvero molto interessanti per questo motivo che siamo un po' in ritardo con la tabella di marcia però abbiamo ancora circa un 25 minuti di domande e risposte chiedo a tutti i relatori Andra Meganzin appunto Mattia Asmund Asdalla manca una sedia se potete portare una sedia in più perché ne vedo solo tre ma sono quattro quindi è Cesare Avesani Zabolla se riuscite a sedervi c'è uno due tre se c'è una sedia eccola perfetto io invito tutti a fare domande brevi in modo tale da permettere a più persone di di rivolgere domande ai nostri ai nostri relatori quindi cerchiamo di non dilungarci in commenti ma di approfittare della grande competenza del relatore che abbiamo al tavolo prego volevo volevo chiedere al dottor Zaborra a proposito dei parchi nazionali europei che sono una cosa meritevole però ho fatto una riflessione cioè non è una sorta anche io la vedo un po' così di museificazione della fauna e della flora che sappiamo che si va estinguendo soprattutto in Africa dopo diciamo così un secolo di saccheggio per tutto il novecento ad opera del mondo occidentale e anche asiatico perché il bracconaggio è sostenuto da loro per lo sappiamo il cliente è l'Asia e l'Occidente ecco domanda è questa non è una sorta in Europa di oserei dire di un lavaggio della coscienza anche se positivo di quello dello sterminio del saccheggio del secolo scorso mi sentite no un attimo che adesso è proprio pronto 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 ecco ma è chiaro che le letture possono essere tante la mia è molto diversa da quella sua penso che quelle popolazioni urbane che di cui abbiamo fatto accenno immagini che oggi esiste una Shanghai con 22 milioni di abitanti ecco non possiamo immaginare che queste persone abbiano diciamo come unica esperienza di diciamo diretta per me naturalista nato con la vecchia scuola di naturalisti per cui dovevi andare sul campo se pensiamo a Milano e al suo Interland senza andare neanche a Shanghai pensare di portare tutte quelle persone nei parchi nazionali o nelle aree protette abbiamo poi quelle altre tipi di diciamo conseguenze che ho brevemente citato ma che vi assicuro che sono estremamente crescenti gli investimenti su musei scientifici orti botanici parchi zoologici credo che vadano in una direzione che da una parte certo il tema della conservazione ma io aggiungo e ho cercato di aggiungerlo nella mia presentazione anche quello della formazione delle professionalità che poi aiutano i parchi nazionali e le aree protette e in più c'è la parte di sensibilizzazione del pubblico se lei avrà tempo e forse l'avrà già avuto di vedere le biografie di grandi naturalisti moltissimi sono stati ispirati alla visita dello zoo da Desmond Morris in su dichiarano che quello sia stato il loro primo impatto e un momento per loro di diciamo così ispirazione potentissima poi ovviamente insomma ecco forse lei si riferisce anche al livello di investimento che è stato fatto che molti insomma innesca anche diciamo così processi di tipo etico cosa si potrebbe fare con 200 milioni in Africa tutto vero però io credo anche che abbiamo un potente bisogno lo dicevo a tavola con alcuni colleghi di recuperare una condizione poi noi italiani in modo particolare di divulgazione delle scienze più potente più forte oggi più che mai oggi siamo nel mondo dei novax e siamo nel mondo dei negazionisti di alcuni di alcuni processi scientifici realmente ottenuti oggi siamo invasi dalle fake news e io le dico dal mio piccolissimo osservatorio lo dicevo a tavola ho ancora famiglie che mi chiedono posso andare nel parco dei dinosauri non c'è pericolo per i bambini è difficile cioè capisce che allora io penso che un po' di investimento sia necessario poi quale sia il limite per giudicarlo eccessivo rispetto ad altre necessità lo lascio agli altri definire però credo sia veramente necessario farlo grazie mille c'è un'altra domanda io ne approfitto un attimo prima di dare la parola ricordare che dopo che abbiamo finito questa discussione dobbiamo uscire perché il museo chiude però poi alle 21 stasera ci sarà un altro evento appunto di questo Darwin Day 2020 quasi famose donne nella storia della scienza con Eliana Canadelli Chiara Ceci Antonella Testa e la moderazione di Valentina Murelli quindi prego pronto volevo dire questo riallacciandomi soprattutto agli interventi che sono avvenuti stamattina in particolare a quello di Bernardi che in buona sostanza ci ha detto che per quanto riguarda l'estensione questa è da una parte un'opportunità per altre specie e dall'altra che il sistema in qualche maniera si può aggiustare si può aggiustare da solo io sono preoccupato perché secondo me è una mia opinione diciamo da questo convegno uno dovrebbe uscire fuori con una idea chiara se dobbiamo metterci se dobbiamo stare dalla parte di Trump oppure dalla parte di Greta c'è il dubbio? io non ho dubbi ma diciamo avrei voluto che venisse fuori diciamo in maniera più chiara che siamo dalla parte di Greta grazie Massimo Massimo è qui però non voleva dire questo io adesso voglio fare l'avvocato difensore di Massimo Bernardo Massimo vieni qua dai ok intanto vieni anche tu ha sottolineato una cosa però che ha sottolineato semplicemente un disallineamento i dati paleontologici dicono che sostanzialmente non è così chiaro come noi avevamo nel passato perché non dicevamo i mammiferi dopo che i dinosauri si estinguono 75 milioni fa boom esplosione i mammiferi i mammiferi sono apparsi molto prima hanno fatto una differenziazione che è rimasta sotto traccia l'estinzione ha creato un'opportunità ma non è che è stato sostanzialmente il motivo scatenante la radiazione evolutiva di un ambito quindi ha fatto vedere semplicemente un disallineamento di questa cosa non ha assolutamente preso delle posizioni trampiane voglio subito dire che Massimo vieni qua dillo tu Trump vieni dillo che stai facendo una dillo che non stai facendo la campagna per Trump che sarebbe poi estinzione fa benissimo sarà durissima stasera andare a letto con questa cruccio di aver di aver sostenuto o come dire di aver possibilmente alimentato questo sospetto che sarebbe più che sufficiente ok ok e no mi spiace sia passato questo messaggio in realtà l'abbiamo detto anche prima forse quanto il mio tentativo fosse quello di ripartire da una concezione di estinzione che non sia così spudoratamente antropocentrica per noi estinzione è una certa cosa perché la vediamo nel 2010 ne stiamo parlando nel 2010 l'estinzione in generale è un'altra cosa è un processo connaturato nell'evoluzione è un motore dell'evoluzione non solo l'estinzione di massa ma qualsiasi estinzioni quindi il mio tentativo era semplicemente quello di partire da una base che fosse scevra dalle accezioni molto pesanti che oggi come dire caratterizzano questo termine quindi non volevo assolutamente non avrei voluto alimentare questi questi sospetti d'altra parte questo è ciò che ci raccontano milioni di anni e per molti altri organismi che non siano l'uomo questa stessa estinzione sarà un'opportunità tutto ciò di cui stiamo parlando adesso è il nostro punto di vista sull'estinzione immagino che moltissime piante che classifichiamo come infestanti moltissimi parassiti molti i ratti stessi penso saranno molto felici di vedere una situazione di sconquasso degli ecosistemi quindi sicuramente per alcuni anche questo sarà un evento di estinzione che rappresenterà un'opportunità poi la maggior parte dei ragionamenti ovviamente li facciamo da un punto di vista antropocentrico giustamente anzi nostro malgrado anche chi non vuole essere antropocentrico si ritrova a dover essere antropocentrico poi non abbiamo siamo gli unici che possiamo fare questo ragionamento diciamo sempre che i dinosauri non stavano ragionando su cosa stesse succedendo durante la loro estinzione noi siamo la prima specie che riesce a farlo siamo nel bel mezzo di una grandissima evoluzione culturale quindi non ci aspettiamo di reagire come hanno reagito i dinosauri quindi qui credo stia la differenza principale ma il fatto che anche questa crisi per una vastissima gamma di organismi sarà una grande opportunità credo che sia innegabile questo ovviamente non giustifica in alcun modo il fatto che o meglio ci sono addirittura infatti mi è spiaciuto prima non poter chiedere al nostro esperto di demografia come prende ad esempio l'evoluzione di movimenti come quelli che sono pro-destinzione umana ci sono movimenti che ritengono che la soluzione migliore sia farci fuori autonomamente e lasciare che il mondo proceda è un'ipotesi insomma secondo me da un punto di vista materialistico non possiamo che prendere in considerazione le varie opzioni ecco questo non vuole sicuramente suffragare le tesi secondo le quali appunto va tutto bene ecco anzi mi pare che siano talmente come dire spudoratamente schiaccianti le prove a favore del fatto che siamo nel bel mezzo di una crisi che ecco forse tutto il resto pensavo avesse molto più peso di una mia di una mia introduzione mi spiace se non ho raggiunto l'obiettivo chiarissimo volevo aggiungere solo una cosa fatemi aggiungere solo una cosa Massimo adesso un attimo qui c'è anche un problema di comunicazione perché qui avete per la maggior parte persone che ragionano comunque sull'odierno o sull'ieri i paleontologi sono un'altra razza da questo punto di vista perché i milioni di anni con cui guardano le cose ci danno uno sguardo che diciamo così non è lo sguardo che abbiamo noi normalmente cioè è veramente perché anche noi diciamo 65 milioni di anni fa però il punto è che essere lì guardare lo strato di roccia vedere i 10.000 15.000 20.000 cioè lo sguardo che hanno appunto chi fa quel lavoro lì è decisamente più ampio ecco dico questa cosa così perché è naturalmente portato a quello in laboratorio guardo il DNA delle mie bestie cioè è un altro tipo di lavoro quindi ecco c'è anche questa cosa quindi notiamo sempre il conto che stiamo guardando cose su scale molto diverse scusate sì certo questo mi veniva a pensare che questo dibattito sulla necessità forse dell'estinzione potremmo vederlo un po' come il dopo festival di Sanremo ecco una riflessione sulla necessità appunto dei nostri limiti ma andiamo avanti altre domande c'erano se non ho visto male prima la ma io vorrei fare una richiesta che forse vi sembrerà assurda a tutta questa equipe di persone estremamente esperte che però si parlano con persone già sensibili perché quelli che sono venuti qui oggi sono già dalla vostra parte non c'è non ci sono persone pro Trump qui dentro credo e quindi io credo che nell'ambito scientifico voi che siete così esperti dovreste forse fare un passo fuori dall'ambito scientifico trovare una proposta un qualcosa di politico che tutti noi possiamo chiedere al nostro governo una iniziativa simbolica ma anche efficace che noi una richiesta che possiamo fare per procedere sulla giusta strada per non andare all'estinzione questo apre un dibattito c'è un problema molto grande che non abbiamo tempo di affrontare in questo momento una cosa che posso dire che sicuramente per gli studiosi per gli scienziati uscire dal proprio ambito è una cosa difficile perché non è minimamente remunerata sa che adesso si sta parlando della terza missione università però i ricercatori i professori avanzano di carriera e vengono premiati per il numero di pubblicazioni scientifiche che scrivono un meccanismo anche abbastanza perverso questo che è stato anche dibattuto come foriero di alcune derive però di fatto la divulgazione la si fa però a livello personale perché ci si crede ma non in modo strutturato e organizzato quindi si parla anche ad esempio nel mio settore del cambiamento climatico si è discusso quanto forse gli scienziati i climatologi dovrebbero far sapere meglio le acquisizioni che hanno portato che hanno trovato negli ultimi anni perché effettivamente c'è una grande distanza sul livello di approfondimento di conoscenza dei climatologi e quello che è un po' il sentire generale però forse non so se questo sta agli scienziati poi chiede a licenziati di fare delle proposte politiche questo secondo me potrebbe essere discutibile nel senso che si possono farlo in quattro cittadini però non contano più di tanti altri cittadini cioè dietro alle proposte politiche ci sono anche dei valori ci sono anche degli interessi che in una democrazia avrebbero bisogno di un confronto molto più ampio ecco quindi questo è un tema che purtroppo però non possiamo non possiamo adesso approfondire ci sono altri interventi per i relatori se no prego certo la seconda volta volevo fare un'esima domanda a proposito non c'è il dottor Livi Bucci purtroppo comunque fa niente volevo chiedere mi rimasta impressa quella diapositiva in cui si vedeva diapositiva insomma in cui si vedeva quel diagramma in cui la popolazione appunto africana è quella che è destinata ovviamente ad aumentare di numero e sembrerebbe così che si attribuisse quasi la maggior responsabilità di questo aumento demografico ai cambiamenti climatici cosa che ovviamente non è vera perché dipende da noi occidentali e anche ai asiatici che la produzione di CO2 è solo nostra anzi loro pagano le conseguenze però la domanda mia era questa ora non credete voi che la distribuzione per quello che farà l'occidente chiaramente per affrontare questo problema che l'eventuale distribuzione di preservative oppure di pillole anticoncezionali per affrontare questo problema all'Africa distribuite dall'occidente non sia l'ennesima forma di colonialismo l'ennesima violenza che facciamo nei confronti degli africani non so chi del panel io mi occupo dei cambiamenti climatici questo è un tema che non mi sento di affrontare soprattutto a quest'ora c'è Andra che forse no proviamo a far dire qualcosa Andra prova a rispondere serve un filosofo serve un filosofo filosofo ce l'abbiamo qua filosofo della scienza se vuole di qualcosa se no ci abbiamo un'altra domanda sicuramente è un tema estremamente complicato ora c'è un problema si era detto anche prima per quanto riguarda l'Africa anche un problema di diritti femminili che io penso sia estremamente importante in paesi soprattutto in via di sviluppo dove non c'è la possibilità appunto per per la donna di scegliere o meno di avere dei figli ad esempio quanti averne per cui anziché passare direttamente alle misure coercitive per quanto blande possano sembrare sarebbe molto più importante e prioritario lavorare sui diritti lavorare appunto sull'emancipazione femminile soprattutto nei paesi come ho detto in via di sviluppo questo è quanto posso dire poi non mi occupo direttamente di tematiche etiche legate a questo tipo di problematiche però insomma se ne può ragionare una domanda in fondo poi direi che possiamo avviarci alla conclusione perché ci buttano fuori grazie allora ho una domanda per la dottoressa Meneganzin e cioè giustamente lei ha parlato di questi bias cognitivi ecco ma come si fa allora a sviluppare una comprensione una comunicazione che eviti questi bias perché questo mi sembra un problema vero una domanda per il professor Caserini 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 ecco non so se lei o la dottoressa Andra ha parlato che nel 2019 probabilmente c'è stata una diminuzione ma questa è probabilmente dovuta a una diminuzione del livello di attività economica a livello mondiale o effettivamente all'adozione di sistemi meno e poi un'ultima domanda per il dottore Avesan invece no lei è stato mi è piaciuto molto il suo intervento però mi resta un dubbio John Berger o Berger come si pronuncia nel 77 scrive un saggio perché guardiamo gli animali e lui dice quando guardiamo gli animali in uno zoo in realtà non sono i veri animali cioè gli animali di uno zoo sono animali diversi che ormai sono abituati a uno stato di cattività e sono marginali grazie allora parto io allora grazie molto per la domanda mi sono resa conto che sono andata forse un po' veloce sulla questione dei bias cognitivi quello che mi preme sottolineare ora è la diciamo la questione evolutiva legata a queste uristiche a questi bias cognitivi che ci impediscono di prendere sul serio di comprendere le dimensioni del problema del cambiamento climatico ora non è che necessariamente queste uristiche sono da condannare a priori sono degli elementi negativi ci hanno aiutato molto nel corso della nostra evoluzione ad affrontare rischi molto evidenti sul qui ed ora a dare delle risposte molto nette molto precise il problema è che la nicchia che noi stessi abbiamo creato è una nicchia estremamente complessa Andrew Morton ad esempio parla Timothy Morton mi scusi parla del cambiamento climatico come un iperoggetto cioè un oggetto che cognitivamente ci sfugge perché è un oggetto estremamente complesso con cause ed effetti che non sono così semplici da collegare sia su base spaziale che su base temporale ora perché sottolineare la presenza di questi impedimenti di questo under endowment della nostra cognizione nei confronti del cambiamento climatico beh per far per mobilitare chi si occupa di comunicazione scientifica e far tenere presente appunto che ci sono queste limitazioni sviluppare appunto delle strategie comunicative che tengano conto di queste nostre limitazioni ma anche per noi stessi nel momento in cui ci approcciamo diciamo in maniera autonoma all'informazione su queste tematiche dobbiamo essere in grado appunto di discernere tra informazioni rigorose e diciamo letture istintive di problemi che sono estremamente complessi rispondo io velocemente c'è stato ieri un lancio di agenzia insomma l'agenzia intersale per l'energia ha pubblicato ha fatto un comunicato a stampa in cui dalle prime stime che fa questo organismo internazionale sulle emissioni di CO2 dalla produzione di energia che sappiamo che conta per l'80% del problema del cambiamento climatico hanno secondo le loro stime nel 2019 c'è stata una stabilizzazione delle emissioni non è proprio il primo anno che succede però una chiara stabilizzazione che è legata sia agli Stati Uniti e in Europa un po' anche in Cina in parte anche soprattutto all'incremento delle tecnologie meno diciamo inquinanti in termini di CO2 nel senso che il prodotto interno lordo è cresciuto nonostante questo negli Stati Uniti il carbone è andato molto in difficoltà sia per le rinnovabili nel Texas stanno mettendo i parchiolici e poi anche lo Shell Gas che dà dei problemi sul metano questo apre un altro fronte in Europa si sono si cominciano a vedere gli effetti delle politiche che sono state messe in campo certo è un anno non è ancora detto che segni il raggiungimento del famoso picco delle emissioni che dobbiamo cercare di raggiungere più alla svelta possibile per poi cominciare a scendere in modo molto drastico però è stato salutato come un aspetto positivo c'è ho letto un articolo di una persona che abbastanza se l'intende diceva però non tutti la pensano come lui diceva perché il picco delle emissioni arriverà prima di quello che pensiamo e questo è una notizia positiva ecco fra tante notizie negative che abbiamo qualche effetto delle politiche si comincia a vedere sicuramente non dobbiamo dimenticare che i numeri dell'Opian Green Deal che è stato prima citato sono andare a emissioni nette zero di CO2 come Europa nel 2050 che sono 30 anni adesso anche senza confrontarmi con i tempi del tempo profondo cambiare un sistema tecnologico in modo profondo 30 anni è veramente qualcosa che uno può chiedersi se è possibile secondo gli studi a Commissione Europea è possibile e anche molti benefici e quindi diciamo qualcosa su cui attaccare un po' di speranza di riuscire a non cadere appunto nelle trappole di cui ci ha parlato Andra secondo me ce l'abbiamo bene mi sentite mi sentite no sì ma velocemente io questo Berger non lo conosco come autore però ecco posso dirle che il Leibniz Institute di Berlino che si occupa di gestione di patologie legate dagli mani d'azzo sta per pubblicare una sua review con circa 105 specie salvate e non mi sembra un dato così trascurabile consideri che io ho fatto vedere il bisonte europeo quando noi ritroduciamo una specie come il bisonte europeo in una foresta ha un impatto è una specie bandiera si chiama un impatto sull'ecosistema impressionante perché apre nuove diciamo così aree ecologiche per altre specie immagino anche il beneficio che ne hanno gli insetti pensando al mio amico qui a fianco coprofagi quindi diciamo in realtà la stima che viene fatta sui macro vertebrati diciamo così è sicuramente limitativa rispetto al potenziale che 105 specie possono mettere in campo e vi dico in realtà quello che lei ha citato è spesso un atteggiamento emozionale che l'uomo ha nel vedere un animale in un'area ristretta che certamente a tutti noi stringe il cuore ma ecco perché dobbiamo fare in modo che quell'area ristretta sia riempita di aspetti culturali e consenta di avere poi un obiettivo grande che è quello di partecipare ai progetti sia di conservazione che di conoscenza perché io vorrei aggiungere un piccolo particolare conosciamo pochissimo della biologia ha parlato la biocollega del fatto che si scriva magari il nome Messico non è che sui vertebrati selvatici abbiamo conoscenze così meravigliose adesso a parte i primati che sono stati molto ben esplorati magari alcune specie di uccelli però vi dico che tantissime specie selvatiche anche insospettabili perché molto note hanno in realtà una biologia molto poco conosciuta ed è stato fondamentale per noi preparare medici veterinari biologi nutrizionisti sul tema delle specie in questo momento e concludo stiamo facendo un lavoro di confronto del bioma dei nostri animali rispetto a quelli selvatici in realtà andiamo a vedere la fauna interna degli animali quanto diversa è rispetto a quella che troviamo riscontriamo nella stessa specie in natura sapete che adesso il bioma ha assunto un ruolo fondamentale anche per la salute umana abbiamo circa tre chili di esseri viventi nel nostro corpo bene andare a confrontarli con quelli di altre popolazioni che vivono in altri ambienti e vedere le loro diversità una nuova frontiera della conoscenza sulla biologia delle specie che stiamo facendo lì grazie grazie a tutti il nostro tempo purtroppo è scaduto penso che sia finito penso che sarà molto interessante questo pomeriggio quindi vi invito a ringraziare ancora i nostri relatori e gli organizzatori anche del Darwin Day 2020 grazie a tutti alle 21 ricordo qua adesso bisogna uscire poi alle 21 quasi famose donne nella storia della scienza volevi dirlo tu volevi dire qualcosa grazie a tutti